Sky Cinema Family presenta i grandi film di Disney Cinemagic. Parti per un'incredibile avventura nello spazio, alla ricerca di un mitico tesoro. Una mappa! Quello è il pianeta del tesoro! Disney Cinemagic presenta il pianeta del tesoro. Sabato alle 19.25 e domenica alle 9.40 su Sky Cinema Family. Tutti i film di Disney Cinemagic sono inclusi nel lavoramento cinema di Sky. Grazie a tutti!